Buongiorno a tutti voi e bentornati. Oggi vi presentiamo un video dove vediamo l'incisione su vetro. Utilizziamo un trappalino elettrico e una fresa diamantata. In questo caso ci aiutiamo anche con degli stencil. La tecnica è incisione su vetro con una fresa diamantata. Trappalino e fresa diamantata. Qui stiamo facendo dei ritocchi. Buona visione e se volete potete anche iscrivervi al nostro canale su YouTube. Saluti da Elettronica Didattica. Grazie. 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 Grazie.